Una delle cose con cui adesso vado un po' a ruota libera, che ho sentito in questi giorni, vi do qua la Mussolini che saluto, la domanda che mi hanno fatto tutti è che mi hanno detto che hai scritto liberi dai partiti, però poi hai fatto accordo con dei partiti. E io dico guardate che quando io ho fatto liberi dai partiti, era il giorno in cui, lo stesso giorno, al collega della sera, dissi che ci sarebbe stata un'esemplificazione e quindi saremmo rimasti in due. Quindi evidentemente sapevo perfettamente che ci sarebbe stato all'orizzonte un accordo con i partiti. Ma ho capito che cosa? Che me lo continuo a ripetere. Ma sai perché, Gaetano? Perché è il concetto di libertà che ce lo siamo scordati. Nel tempo è passato la sioma che libertà è uguale a autosufficienza. Io sono libero, non se liberamente mi decido di sposare con una persona in un progetto folle e di dedicarmi a quella persona. Io sono libero se non ho bisogno di nessun altro. E questo schema è che è uno schema mentale, lo abbiamo spostato, l'abbiamo talmente interiorizzato. Per cui quando i giornalisti mi fanno tutte le stesse domande o le persone, perché mi rendo conto che il concetto di libertà l'hanno sganciato dal concetto di legame, che invece è il presupposto per fare qualsiasi progetto di felicità e di crescita collettiva. E io faccio già per esempio i Cinque Stelle. Io sono in un'autosoluzione. Cosa sarebbe successo se i Cinque Stelle avessero accettato il guanto di sfida della sinistra di Berciani? Sarebbe cambiato. E sono chiusi in un auto isolamento, per cui loro sono duri e puri, tutto il resto fa schifo. Non è così. Allora se l'obiettivo è quello di ossigenare la politica, se l'obiettivo è quello di cambiare le cose, non puoi non legarti mantenendo la tua libertà e la tua identità.